Dopo il reddito ponte, la Regione Basilicata è pronta a mettere in campo nuovi strumenti per favorire l'occupazione giovanile. Lo ha detto l'assessore regionale alla formazione Rosa Mastrosimone, nel corso di un seminario organizzato nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale di Matera per presentare le opportunità del reddito ponte. Questo avviso, ha aggiunto Mastrosimone, non vuole creare illusioni, ma speranze. Stiamo cercando di fare tutto quello che è possibile per offrire ai giovani diplomati e lavoreati lucani un'opportunità per restare in Basilicata, per inserirsi nel mercato del lavoro, per favorire l'auto-impresa. Mastrosimone si è quindi soffermata sugli altri bandi, come quello relativo alle work experience, dove si sono registrate 1500 domande. Ed ha annunciato che altre misure stanno per essere adottate, come quella riguardante il microcredito, che andrà ad intrecciarsi inevitabilmente con il reddito ponte, come l'apprendistato per recuperare gli antichi mestieri, come la promozione dell'occupazione anche nei settori della cultura e del turismo. Con il reddito ponte, come con altre misure, ha detto il Presidente della Regione Vito De Filippo, stiamo tentando di mettere mano al problema dei problemi del sud e dell'intero paese. Ma occorre affrontare il tema dell'emigrazione dei giovani lucani e meridionali, con serietà e rigore, tentando di elaborare proposte, di costruire strumenti ed evitando di cadere nella facile demagogia. Il Presidente della Regione, quindi, ha evidenziato che in Basilicata ogni anno si laureano circa 3500 giovani. Una Basilicata senza ponte per il futuro, i giovani, e una Regione senza futuro. Stiamo costruendo nuovi strumenti, ma occorre fiducia. Le critiche vanno bene, ma occorre affiancarle con proposte concrete, con idee nuove e realizzabili, altrimenti si rischia di vanificare ogni sforzo. Grazie. Grazie. Grazie.